Io mi chiamo Ivana Reschke, vengo dalla Svizzera, di Basilea, veniamo qui da più... non eravamo ancora sposati, adesso siamo sposati da 30 anni, mio marito veniva già con la sua famiglia quando era piccolino, cioè lui da 40 anni quasi che viene qui, adesso veniamo noi, vengono i miei figli e adesso vengono qui i miei mipotini, è veramente una meraviglia perché la famiglia oggi è una famiglia, non è una vera, è una famiglia e si troviamo sempre bene e veniamo sempre ogni anno. La cucina ogni volta è sempre più buona, si torna a casa con 2-3 kg sempre in più, le camere sono perfette, la gente è meravigliosa, cioè non ci pensiamo neanche di andare ad un altro albergo, sono 30 anni che non ci pensiamo neanche e torniamo sempre molto volentieri qui.